Oh, prego! Prego a nuova Cini! Quello per il meglio è quello per Roberta Parizza. Ah, riprendi pure quello di Roberta Parizza. È la Cini di Ischia, dove presenterà i miei appolatori di arte e anche di vestiario. Immagini di Bruna, lei fa tutte queste biori. Io non sono brava. C'è il piano che si fa. �지, lo giro, gli dici, lo giro di lardo. Non è che si perde. L'iglamo pesca, non la vuole. Allora, scusatemi, un altro lagano, un pesca. Non lo mancino? Eh, buemi regazze! L'obbiciziavo! Bellissima! Questo è un papiro vero, fatto a mano, con il logo di Da'Art. Il disegno è fatto da me. Ogni volta il disegno è fatto da Flora. C'è scritto Flora qua. No? Il disegno è stato fatto dall'artista Flora. Grazie. Un mancino che si è fatto piccolo. Questo a te. E Da'Art. Un papiro vero, veramente. Ho insegnato da Flora colorato a mano con gli artisti egiziani. Si esiste, ma proprio bello. Si è infatti a mano. Fa vero bello, lo vedi? Stai in Egitto già, tu già ci stai con il tuo papiro. Sei immortalato nelle... Nelle creope che hai premiserito. Allora facciamo così. Questa è un'ommaggio dal forum strategico. Ah. Il forum strategico egiziano. che è sempre un pubblico. Allora facciamo così. E' un condubbio con l'Egitto, eh. Questo è un condubbio con l'Egitto. Grazie a te. Grazie a te. Grazie a te.